La nostra cantina è all'interno della Barbagia, ai piedi del Monte Corrasi a Oliena. Noi abbiamo un vigneto di 30 ettari di uve canonau, da cui produciamo il nepenti di Oliena, che è una sottodenominazione, diciamo un valore aggiunto al canonau di Sardegna. Per le caratteristiche organoletiche e anche per il particolare microclima del nostro territorio. Quindi il vino che presentiamo oggi, il nostro vino di punta possiamo dire, che rappresenta di più la tipicità della nostra azienda è il Provois. È un canonau di Sardegna riserva del 2006, che viene maturato in bottiglia per 18 mesi, e poi ha l'affinamento, maturato scusate, in barrique per 18 mesi e poi ha l'affinamento in bottiglia. È un particolare vino dalle note speziate, che però rispecchia la tipicità del nostro territorio per via di una nota minerale e anche per i frutti rossi che spiccano sempre a livello olfattivo e gustativo. Noi stiamo puntando su mercati che siano di nicchia, perché non abbiamo una grossa produzione. La nostra produzione si attesta sui 40 quintali a ettaro di uve e quindi non possiamo fare delle grandi quantità. Per cui non ci rivolgiamo alla grossa distribuzione, ma esclusivamente a dei piccoli mercati di nicchia che possono apprezzare questi prodotti. Grazie. Grazie.